Siamo a Settimo Vittone, in un vigneto storico a terrazzamenti, dove viene coltivata la vite, nello specifico nebbiolo picotener, con il sistema di pergole. Un sistema che può essere di pergola tradizionale oppure di pergola leggermente più moderna, dove alcune parti del legno sono state sostituite da fil di ferro. I salici potati vengono raccolti in fascine del peso di circa 10-15 kg, che a loro volta devono essere ripuliti e divisi in base alle loro dimensioni, in quanto ci sono diverse esigenze di misure, quindi si va a scegliere salici più piccolo, medio oppure grande. La legatura consiste nell'adagiare i tralci su se stessi e vengono fissati attraverso il legno e il fil di ferro attraverso dei salici, con un opportuno tipo di legatura. Per la legatura sull'orditura classica si parte dal tronco della vite fino alla parte più esterna, chiaramente viene adagiato tutto sul trave di castagno, sull'orditura più piccola del castagno, che serve a supportare i tralci. Grazie a tutti!